Colleghi, allora ho parlato con il generale, domani mattina dobbiamo fare la parata quindi organizziamoci. Va boh? Domani mattina? Scusi, metti che domani mattina piove. Sì, vabbè, proprio la sfortuna. Se piove si fa, si farà il pomeriggio, domani pomeriggio la facciamo. Scusi, metti che piove il pomeriggio? In questo caso la anticipiamo la mattina, domani mattina la facciamo. Sì, dove si piove il pomeriggio? Vabbè, metti che piove la mattina. Te l'ho detto prima, se piove la mattina la facciamo domani pomeriggio. Scusi, metti che piove domani pomeriggio? Scusi, la facciamo domani mattina la parata. Scusi, metti che piove domani mattina? Ehi, sai che ti dico, non la facciamo proprio la parata, che cazzo con il cammino.